Buongiorno e benvenuti a questa nuova recensione. Come avevo già anticipato sulla recensione dell'XCMG 7000 alle scavature frontale, oggi vedremo il Dumper, l'XDE360, Dumper da miniera prodotto dalla XCMG. Modello in scala 1.50, come si può leggere qua sotto. Assomiglia abbastanza un po' i Dumper Komatsu, con l'imperiale del cassone spiovente, invece stile un po' Itachi. Scatola di cartone, tipo valigetta, con la maniglia sopra qua. Anche questo modello è prodotto dalla Yagao Models, modello uscito quest'anno e anche questo ho comprato su Amazon insieme all'escavatore, come avevo già anticipato nell'altra recensione. Ve la lascio qui in alto a destra in caso se volete vederla. Andiamo a vedere allora il Dumper cinese. Ecco qua allora l'XCMG XDE360, Dumper da miniera della XCMG. 360 penso che stia per la portata, 360 tone. Come si può notare il frontale è abbastanza dettagliato, ringhiere tutte, tallo, specchi, molto bello il muso con tutta la griglia davanti forata, cabina con all'interno due figuranti, con portiera apribile come si può vedere. Di lato troviamo i tubi di scarico, qua gli specchi, serbatoio del gasolio penso sia questo, parafanghi per le gomme, il retro del Dumper. Qua di lato si può vedere all'interno la riproduzione del motore. Viste anche le dimensioni comunque del modello si riesce a riprodurre abbastanza facilmente, si riescono a contare anche i cilindri. Questo purtroppo è il massimo ribaltamento del cassone, di più non si alza. Ruote sterzanti. Qua davanti troviamo la scaletta richiudibile con pistone. Di per se il Dumper è una macchina che comunque non è che sia dettagliatissima, anche la macchina vera, perché sì, alla fine è un semplice camion, quindi all'infuori di quattro scale, due ringhiere, non è che ci sia tanto da poter riprodurre. In questo caso hanno riprodotto anche il motore, direi anche abbastanza dettagliato, è bello da vedere. Purtroppo il difetto è il cassone che come avete visto non ribalta completamente. Modello interessante, fa comunque la sua bella figura in vetrina, visto anche il frontale bello dettagliato con ringhiere, scale e tante altre varie cosucce. Modello che viene venduto negli shop ha una cifra abbastanza folle, secondo me, perché come prezzo potrebbe essere un 230, massimo 250 euro, non di più, perché alla fine non è che ci sia questa grande quantità di dettagli, qualità, ci sono un po' di parti in plastica, però non sono ammissibili quelle cifre che chiedono di 400, 500 euro, se ricordo giusto. Secondo me non più di 250, ecco. Come voto gli darei un 7,5, visto che comunque sì, ci sono tante parti in metallo, ma anche tante in plastica e poi il dettaglio del cassone, che diciamo è la parte principale del dumper, poteva essere curata meglio. Altro da dire, secondo me non c'è nulla, spero che anche questa recensione vi sia piaciuta. Iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati sui nuovi video. Qui in alto a destra vi lascio il link al collegamento alla playlist con altre mie recensioni. Se avete domande commentate pure qua sotto, potete seguirmi anche su Facebook, stesso nome del canale YouTube. E alla prossima, ciao!